C'è ancora una parte del vostro fiato che invece che appoggiare vuole sempre spingere verso fuori, sono sempre due, quello che succede qua e quello che succede qua, si causano una con l'altra, quando sbaglio è sempre quasi sempre colpa del fiato che fa la cosa, credo di fare la cosa giusta, invece fa la cosa sbagliata, fa il contrario di quello che devo fare, invece che marcia indietro fa marcia avanti e spinge, le cose o vanno così o vanno così, devo essere io che decido come mettere le macchine, le cose dovrebbero andare sempre un po' così, perché io il corpo che ho per cantare di là non c'ho niente per cantare, devo usare quello che c'ho di qua. Tra l'altro questa cosa dei denti stretti viene utilizzata anche da alcuni insegnanti di canto moderno, se ci fate caso, se guardate qualche cantante pop, di musica leggera, spesso quando fa la I o la E, fa così, attacca la I con i denti strettissimi, perché siccome lo fanno in tante, significa che è proprio un insegnamento che danno alcuni, perché effettivamente con i denti stretti sono accorti che effettivamente è una cosa che aiuta, perché ti evita di andare in gola, perché tu con i denti stretti così non è che puoi spingere più di tanto, perché sei di chiuso dentro, quindi le I soprattutto, vedete, sempre che le attaccano le I, alcuni fanno anche una smorfia che poi può essere magari d'effetto a livello scenico, però è molto spesso per quello, per andare a evitare di attaccare in gola le I, soprattutto le I, quindi attaccano proprio con i denti strettissimi a volte. Facciamo, sempre con la I, i denti chiusi. Lo conoscete già? Pensate anche alla canzone, la musica è finita, la felicità è il massimo, che inutile se... Poi c'è questa la versione corta, poi c'è anche quello che va su all'ottava, all'nona. Dovete avere l'impressione che non fate niente, come quelli che suonano in filo d'erba con le labbra, eh? Il kazuco, la carta velina, eh? Qui davanti. No? Ok? Un, due, tre. Mettete solo un pezzo di mano fino alla punta del nado, come se ci fosse qui un bambino a cui state cantando la nina nanna, la testa, attraverso la vibrazione. Un, due, tre. Bene. C'è qualcuno che è riuscito a tenere ben legato, ogni tanto qualcuno invece sente il salto nel punto. Io si è sentito un paio di persone che hanno fatto un... insomma, hanno cambiato la propria posizione, sono scattate verso l'alto. Tenere tutto qui. E' tutto qua dietro. Trovate tutto qua dietro. Un elastico, lo ispirate un pochino sempre quando avete bisogno. Vediamo. No, no, no. Io sento il salto in avanti, no? Tirare indietro. Scivolare indietro. Andiamo. Mi sento che già ha funzionato molto meglio, molte più persone. Questo è il legato, capite? Il legato è questo. Il resto vuol dire cantare a sospiri, a tutto slegato, a colpi, no? Se ogni nota che salgo devo fare un colpo d'aria verso l'alto, cambiare bicicletta, salire su un altro mezzo. Invece il legato significa fare tutto dallo stesso punto. Tutto lì. Non perdo ogni volta la posizione. E' anche molto importante la nota d'attacco. Non si entra sfondando la porta nella voce, si entra abbassando la maniglia. Cioè da qui tiro. Si comincia con la vibrazione, non mandando dell'aria. Non è una capsula d'aria che sfonda tutto, una cannonata che viene... E una tosse che mi fa attaccare. Non è quello il canto. Quelli sono i versi. Ne sentiamo tanti. In televisione, dappertutto. Il canto inizia qui. E' una vibrazione che entra. E' come per chi conosce i dischi a vinile. Abbasso la puntina e la musica c'è tutta sul disco. Io la musica c'è tutta nel cervello e nel diaframma. Questo è solo la puntina che attacca. Non ha bisogno di una cannonata di aria. Vediamo. Vedete fino al fine. Fino al fine. Decidete voi quando togliere. E quando decidete di togliere, la voce finisce. Non è il fiato che finisce e che fa finire. Adesso fate... Provate a staccare leggermente i denti. Mai più normale. Con i denti a distanza. Però sempre la mano davanti. Un, due, tre. E' come. E' come. E' come. Grazie.